Né vincitori né vinti al Dei Marzi, almeno fino al novantesimo, quando la gara viene sbloccata dal 2001, OXA con un gol che regala i tre punti all'Avizzano e Beffalchietti sul finale di un derby equilibrato che ha visto tante occasioni da entrambe le parti. I biancoverdi sfruttano al meglio un calcio piazzato, battuto da Zanon e intercettato nella mischia dal subentrato OXA che buca la rete ed interrompe la scia dei pari collezionata nelle ultime due gare dall'Avizzano. Amaro in bocca per i Chietini che tornano a casa senza bottino dopo aver combattuto a viso aperto per 95 minuti. Mister Scorsini ritrova Dos Santos e Zanon ma deve fare a meno di sì se è squalificato. Formazione al 90% rimaneggiata dal tecnico Chietino Chianese che paga le numerose assenze con il nea acquisto Anticoli classe 2003 davanti a trascinare la squadra. Al minuto 21 calcio di punizione per il Chieti battuto da Vaccaro classe 99 direttamente in porta i guantoni di Coco intercettano e bloccano. Tre minuti dopo ancora un calcio piazzato per i Nero Verdi sul pallone il vicecapitano Paglia che calcia troppo alto sopra la traversa. Al ventisettesimo protagonisti ancora gli ospiti con Mercuri che ruba palla a Donatangelo e si invola verso la porta avversaria. Tiro fiacco ed impreciso. Due minuti più tardi tocca all'Avizzano prima vera occasione per i Biancoverdi con Pellecchia che crea un corridoio importante per il 2002 Corrado che scivola e spreca una vietta occasione. Brivido per il Chieti al trentunesimo con il portiere Nero Verde Serra che salva sulla linea di porta il destro al volo di Filosa mantenendo così salvo lo 0-0. Sul finale della prima frazione di gioco il neo acquisto Chietino classe 2003 Anticoli tenta il colpo con un tiro che di poco esce risultato fermo sullo 0-0 i giocatori a riposo. A rientro dagli spogliatoi è il Nero Verde Mercuri che tenta il tiro che si spegne al lato del palo destro. Atmosfera al CESAL dei Marzi quando all'undicesimo il Biancoverde Corrado viene atterrato in area piccola avversaria. Necessario l'intervento dello staff medico e Corrado Dolorante lascia il posto a De Almeida. Al diciassettesimo punizione per l'Avezzano con Paris che aggancia bene il cross di Zanon ma non trova la porta. Al ventottesimo corner per il Chieti battuto da Paglia con un traversone che attraversa indissurbato tutta la linea di porta. E ancora Chieti pericoloso con il subentrato Riosa che tenta il colpaccio ma la palla non ne vuole sapere di entrare. Quando tutto sembrava ormai scritto l'Avezzano da calcio piazzato sblocca il risultato sullo scadere dei 90 minuti. Cross di Zanon nella mischia intercettato dal subentrato Oxa che la infila nell'angolino destro. Non succede più nulla da segnalare solo al quarantottesimo l'espulsione del bianco-verde negro per doppio giallo. Risultato finale di 1-0 per i bianco-verdi al Dei Marzi con l'Avezzano che ritrova la vittoria ed il Chieti che torna invece a casa beffato negli ultimi minuti disputando comunque un'ottima partita.